E' un invito ufficiale? Non mi è sembrata entusiasta. Anche tu non sei niente male. Siete una favola stasera. E' un appuntamento. Ottima scelta. Ce ne ha messo a decidersi. Allora, perché hai mollato la tua vita sulla Terra? Siamo saliti sulla Avalon con una destinazione. 120 anni di ibernazione. Dovevamo svegliarci in un nuovo secolo, su un altro pianeta. Ma un anno fa, tutto è cambiato. C'è qualcuno? Rispondete! C'è qualcuno? Tu sai che sta succedendo? Nessun altro si è svegliato. Sarà stato un problema con le capsule di ibernazione. Ci siamo svegliati troppo presto. 90 anni prima del previsto. Non è possibile. Dobbiamo tornare a dormire. Non si può. Aurora, ti vogliamo bene. Deve esserci un problema. Un grosso problema. Cosa facciamo adesso? Ti fidi di me. La nave sta per cedere. Devo farlo per poco. No, se muori tu vuoi anch'io. Devo dirti una cosa. C'è un motivo per cui ci siamo svegliati prima. Cosa facciamo adesso? Grazie a tutti.